Impariamo da Abramo, impariamo a pregare con fede, ascoltare il Signore, camminare, dialogare, fino a discutere. Non abbiamo paura di discutere con Dio. Anche dire una cosa che sembra un'eresia. Tante volte ho sentito gente che mi dicono, ma lei sa, mi è successo questo e mi sono arrabbiato con Dio. Ma tu hai avuto il coraggio di arrabbiarti con Dio? Sì, mi sono arrabbiato, ma questa è una forma di preghiera, perché solo un figlio è capace di arrabbiarsi col papà e poi rincontrarlo. Con Dio impariamo a parlare come un figlio col suo papà. Così ci insegna Abramo a pregare.